Nuovo crollo a Palazzo Carmelo nel pomeriggio di venerdì. Questa volta a essere interessata dal cedimento è una delle volte nella porzione dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Si tratta di un nuovo episodio dopo il cedimento delle volte nel pomeriggio del 10 febbraio scorso e il crollo la notte successiva di una porzione consistente su via Vittorio Veneto, volte mura e facciata. Proprio a seguito di questo un pezzo consistente di Palazzo Carmelo e il risultato compromesso coinvolgendo anche parte dei locali attigui alla chiesa del Carmine. A metà marzo scorso un consiglio straordinario per parlare della situazione dell'immobile nulla faceva prevedere un nuovo episodio. Fratelli d'Italia bolla il tutto come cosa di una gravità assoluta, nessuno provi a minimizzare, nessuna inchiesta è stata mai disposta malgrado il nostro esposto sottolineano da Fratelli d'Italia. Siamo increduli e sbigottiti. A Faglieco il consigliere d'opposizione Tommaso Sgarro, anche stavolta la responsabilità non è di nessuno, si tratterà sempre di fatalità, delle piogge, già oggi prendono avvio intanto le interlocuzioni con la soprintendenza per accelerare gli interventi sulle volte.